Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Per chi vivo? Perché cerco il Signore? Ecco alcune domande chiave che possiamo cogliere dal testo di questa domenica. Dopo la moltiplicazione dei pani Gesù si sposta a Cafarnao e nella sinagoga ne svela il senso profondo grazie all'ampio discorso omelia sul pane vivo. Gesù dunque si sposta e la folla lo cerca. Trovatolo, la folla quasi rimprovera Gesù dicendo maestro quando sei venuto qui? Come a dire che fai? Non ci dici niente? Tu devi stare a nostra disposizione. La gente cerca Gesù perché gli dia pane da mangiare soddisfacendo i propri appetiti. Gesù invece gli fa un discorso perché capisca che è lui il pane vivo disceso dal cielo che alimenta e sazia profondamente la nostra vita. Anzitutto Gesù va al cuore del problema e dice voi mi cercate non perché avete visto segni ma perché avete mangiato e vi siete saziati. Come a dire non avete colto il senso della moltiplicazione dei pani e del chi sono e non mi cercate per questo ma vi siete fermati alla pancia piena e mi cercate solo per riempire quella. Ci chiediamo è possibile anche per noi vivere la vita come se fosse un susseguirsi casuale di fatti senza coglierne il senso profondo? È possibile vivere la vita solo per saziare i propri appetiti cercando solo benessere e comfort senza imparare davvero l'arte di amare? Purtroppo sì. Per questo Gesù aggiunge datevi da fare non per il cibo che passa ma per quello che dura per la vita eterna e che il figlio dell'uomo vi darà. Queste parole di Gesù ci fanno bene e ci aiutano a chiederci perché cosa mi do tanto da fare? Per ciò che passa o per ciò che dura in eterno? In fondo potremmo chiederci radicalmente per chi vivo? Una storia ebraica narra di un rabbino saggio e timorato di Dio che una sera dopo una giornata passata a consultare i libri delle antiche profezie decise di uscire per strada e fare una passeggiata. Mentre camminava lentamente in una strada isolata incontrò un guardiano che camminava avanti e indietro davanti alla cancellata di un ricco podere. Il rabbino lo guardò e gli chiese per chi cammini tu? Il guardiano disse il nome del suo padrone poi subito dopo chiese al rabbino e tu per chi cammini? Questa domanda si conficcò nel cuore del rabbino e tu per chi cammini? Sì chiediamocelo seriamente io per chi vivo? Vivo per il Signore? Per fare la sua volontà? Desidero essere santo? Allora amerò e metterò il cuore in ciò che faccio senza diventarne schiavo? Oppure vivo per altro? Qual è la meta ultima della mia vita? Beni, famiglia, lavoro, sport? Sono parte della mia vita o sono tutta la mia vita? La folla dunque cercava Gesù solo per il pane e a questo punto potremmo anche chiederci cerco il Signore? Bene, ma perché lo cerco? La folla appunto lo cercava solo perché aveva ben mangiato. Già Sant'Agostino diceva quanti sono coloro che cercano Gesù solo per averne favori temporali? Uno deve combinare un affare e cerca perciò la mediazione di un sacerdote, un altro è perseguitato da qualche pezzo grosso o vuole essere raccomandato presso qualche potente e cerca rifugio in chiesa. La chiesa è piena di gente simile. Di rado si trova qualcuno che cerca Gesù per Gesù. Quante volte anziché cercare la comunione con il Dio amore lo riduciamo ad un freddo distributore? Finché il distributore eroga, si crede o almeno si pensa di credere, ma se non eroga quel che vogliamo, rabbia, fulmini e saette, dimenticando quanto ci è già stato donato. Vedete, è giusto chiedere al Signore ciò di cui quotidianamente abbisogniamo. Siamo figli di un Padre che ci ama, ma non dimentichiamo che la domanda dacci oggi il nostro pane quotidiano è incastonata nella preghiera del Padre nostro, che è una preghiera che ci rimanda ad una relazione profonda con qualcuno di cui anzitutto desideriamo santificare il nome, edificare il regno e fare la sua santa volontà. Si può passare una vita intera a chiedere cose al Signore senza arrivare a mettersi seriamente nelle mani del Signore. Si può chiedere che Dio faccia quel che vogliamo senza aprirci seriamente a quel che Dio vuole da noi. Della serie Padre sia fatta la mia volontà. Farlo purtroppo significa restare incastrati nel proprio ego, al quale si cerca persin di sottomettere Dio. Che dramma! Chiedergli grazie ma non aprirsi alla sua grazia, morire sani ma non santi, perdendoci la parte migliore. Perciò Gesù ci invita ad andare oltre, cercate ciò che non passa, voi siete più di uno stomaco da saziare o di un portafoglio da riempire, cercate ciò che dura per l'eternità, il di più che io vi do, me stesso, la mia parola eterna, la mia vita in voi, il mio amore in voi. I giudei citano la manna data da Mosè ma questo era solo un addombramento del vero pane del cielo che è Gesù e il suo insegnamento. Che l'uomo sia più di una bocca da sfamare lo ricordò già Mosè in Deuteronomio 8 3. Dio ti ha nutrito di manna nel deserto per farti capire che l'uomo non vive solo di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Ed ecco che la folla incalza. Bene, dato che dobbiamo darci da fare, che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Per un giudeo questo linguaggio rimandava all'osservanza della legge, da molti ridotta a delle regole da osservare per sentirsi a posto. Ecco un'altra sottile tentazione, procurarsi la sazietà interiore da sé, prescindendo da un rapporto serio con Dio della serie. Metto in pratica delle regole e sono a posto. Faccio qualche opera buona e sono santo. Pratico qualche devozione o faccio il giusto numero di preghiere e ottengo grazie. Gesù risponde, una sola è l'opera da compiere, credere in colui che il Padre ha mandato e sul quale il Padre ha posto il suo sigillo. Credere in Giovanni e al contempo opera di Dio nell'uomo è opera dell'uomo. L'uomo apre il cuore a Dio e vi aderisce, Dio opera nel cuore dell'uomo unendolo a lui e divinizzandolo. Ecco la fede, aderire profondamente al Signore, lasciandolo agire in noi, custodendo le sue parole e cercando la comunione con lui in tutto ciò che pensiamo, sentiamo e facciamo. E Gesù conclude con delle parole altissime. Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai. Vedete, è il desiderio di lui, è lo stare uniti a lui che sazia il cuore, che ci pacifica, che unifica la nostra persona. E il suo amore per noi è in noi che sana le nostre ferite e ci rende capaci di amare. Noi infatti non abbiamo solo fame di cibo, abbiamo anche altre fami più profonde. Desideriamo l'amore, la vita senza fine, la felicità, di cogliere il senso vero e profondo della realtà. E tutti viviamo un'esperienza. Nessuna cosa creata è in grado di saziare il nostro cuore. C'è sempre un e poi. Vivi una cosa bella, vorresti non finisse mai. E poi ne desideri un'altra e un'altra ancora. Questo è il punto. Nessuna cosa o persona ci sazia. C'è una fame di infinito nel nostro cuore. C'è un desiderio profondo che sta alla base di ogni desiderio. Ed è il desiderio di Dio. Perciò Sant'Agostino diceva, Signore, ci hai fatti per te e inquieto il nostro cuore finché non ripose in te. Noi possiamo passare una vita centrati sui nostri bisogni, incastrati nei nostri appetiti, cercando in vano di riempirci fagocitando relazioni, cibi, beni, ruoli, ritrovandocene infine schiavi e sentendoci sempre più vuoti. Oppure possiamo aprirci al pane vivo disceso dal cielo e lasciarci saziare da lui, lasciando che il suo amore ci rinnovi, lasciare che lui parli al nostro cuore, meditando ogni giorno la sua parola, pregando, cercando la comunione con lui. E allora assisteremo a un prodigio, ritroveremo un cuore pacificato, saziato, man mano purificato dalla sua grazia. Quelle cose che fino a ieri ci attraevano e quasi ci imprigionavano, pian piano perderanno di intensità. Riusciremo col suo aiuto a vivere relazioni più belle, più gratuite. Riusciremo a gestire meglio affetti, beni, senza ritrovarci nei prigionieri. Perciò il cardinale Martini diceva, devi aprirti al mistero di Dio, non c'è altra strada, correresti in vano, per deserti senza meta. Devi fidarti di Cristo, lui solo ha in mano il segreto della mia e della tua libertà, e di Cristo non devi avere paura. Non ti ruba nulla dei tuoi più profondi sospiri di vita, te li purifica e nobilita, a grandezze inimmaginabili. Cari fratelli e sorelle, quest'oggi siamo chiamati a risollevare lo sguardo. Non siamo nati per essere come polli che razzolano, ma come aquile che volano. Dio ci ha sognati per essere santi, per essere campioni d'amore. Nel figlio ci rende figli. Noi possiamo limitarci all'ordinario o aprirci allo straordinario. Possiamo vivere una vita sciattamente materiale, oppure aprirci alla sua grazia soprannaturale, fidandoci di lui, poggiandoci sulle sue parole, lasciando che lui compia le sue opere in noi, amando del suo stesso amore. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.